ciao a tutti ragazzi è tanto tempo che non faccio più video oggi farò il tanto atteso buttercup un attimo devo prendere qualcosa terrarizzante oh scusate ecco qua allora allora questo è buttercup qua scritta buttercup l'ha fatto sua stretch dirmi dove si trova e me li voglio comprare voglio collezionarli specialmente stretch qui tante informazioni gira la testa ora passiamo all'apertura allora ci vuole qualcosa ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua come vedete muove la testa qui qui il corno la corna la coda il zampino va bene questa è la buttercup è prima ecco qua